Ok, allora, il talk si intitola Esperimenti di arte digitale umana in Genoa tra emancipazione e provocazione femminile e il gioco di parole che lo rappresenta è fact making, che scritto è più bellino, però Allora, se dunque l'hacking è genericamente la messa in discussione e l'apertura di un sistema definito e il making è l'innovazione nel processo di fabbricazione Partiamo dal basso, dal life hacking a mettere in discussione e ricostruire noi stessi sulle basi che abbiamo, con nuovi mezzi, orizzonti aperti umiltà e tanta paura Fact making, cioè prova a mettere in discussione il sistema il tuo sistema e ricostruisciti Dice un certo Sullivan, viralmente anche attribuito ad altri illustri e ripreso dal cantante Ermal Meta che è compito di ognuno trasformare le proprie ferite scusate, mi commuovo in punti di inserimento per le ali come evidenzia l'introduzione, questo talk tocca la categoria di arte digitale solo marginalmente, anche per motivi organizzativi come risultato concreto di un percorso di life hacking hacking personale, interpersonale, produttivo e culturale Siamo qui per raccontare l'incontro tra una parte femminile con sensibilità scusate perché Cioè più che altro sto parlando di me qui Con sensibilità artistica e umanistica deviante di scuola concettuale che aveva perduto la serenità di esprimersi con le arti che le erano proprie e un mentore, Vittorio una personalità a care maker con il suo bagaglio tecnico e divulgativo di questa filosofia e etica un po' deviante anch'essa Non è un gran mistero che la motivazione a mettersi in discussione nasca da una crisi e che il rimettersi in gioco riparta sovente dall'incontro con una guida fidata e un po' folle da una mano che accompagni più o meno gentilmente verso il futuro A partire da questo bizzarro incontro l'anima artistica smarrita ha iniziato a percorrere timidamente i sentieri della cultura informatica e digitale a perseguire e sostenere il movimento maker a usare il proprio pensiero divergente per utilizzare nuovi strumenti e comunicare creativamente anche attraverso la tecnologia non senza grandi difficoltà, limiti e timori ma riconquistando entusiasmo e autostima Abbiamo introdotto il tema dell'emancipazione femminile come tema generale e nel mondo tecnologico digitale e dunque la provocazione e celebrazione visuale e concettuale si esprime nella progettazione e realizzazione per un concorso di stampa 3D al femminile di un concept ibrido estemporaneo nel senso di arte performativa connessa alla realizzazione di un design artistico interattivo nel senso di interazione uomo-macchina che parte da un livello elementare di approccio alla modellazione l'uso di un'applicazione web parametrica di design 3D impostata per creare modelli di vasi da stampare A partire da una modifica standard di vaso per fiori abbiamo schiacciato l'elemento risultante sull'asse Z e ridotto le dimensioni fino a ottenere un oggetto in misura di monile base indossabile e abbiamo chiuso in alto la bocca del vaso con un top in modo da ottenere la suggestione di un capezzolo molto stilizzato ed elegante benché provocatorio abbiamo utilizzato lo slicer di stampa per settare i parametri adatti in modo da valorizzare il design nella peculiarità del materiale e della tecnologia additiva sfruttando i caratteristici layer di stampa come elementi di pregio invece che di difetto da minimizzare in post lavorazione in questo senso ho scelto di utilizzare un filamento plastico bianco fosforescente e traslucido in modo da far trasferire la struttura reticolare di riempimento interno come elemento caratterizzante significativo e decorativo a partire da questa forma e dalla base biancastra del filamento ho proceduto a sviluppare un metodo di colorazione che sto sperimentando da tempo per sfumare i manufatti in fase di stampa interagendo direttamente con la macchina così da ottenere pezzi unici significativi anche da un punto di vista di performance concettuale nel caso specifico riesco a ottenere delle sfumature rosa molto suggestive per valorizzare la simbologia del capezzolo a metà tra il virginale e lo sfrontato lo stesso principio può permettere di personalizzare questo oggetto stilistico oppure altri a questo proposito oltre a questo progetto di gadget la mia sperimentazione artistica è costante e si basa sia sulla ricerca di metodi di sfumatura interessanti ed efficaci che di design di oggetti base adatti ad essere valorizzati sia in sfumatura che in post lavorazione e decorazione in particolare mi dedico a modellare elementi per accessori di abbigliamento e bigiotteria sto lavorando a delle perle divergenti e a una performance concettuale che coinvolge il crescendo della stampa con la narrazione letteraria la costante della mia ricerca è il tentativo di valorizzare la macchina come attore filosofico e non solo come mezzo produttivo anche nel suo movimento e rumore di lavoro come un flusso di coscienza a questo proposito mi diverto molto a creare dei video della stampante in funzione e foto degli elaborati nei più disparati contesti un interesse particolare lo dedichiamo allo studio dell'errore da cui ripartire per creare qualcosa di nuovo venendo a illustrare i concetti di pensiero divergente errore creativo e inclusione sociale come in natura l'errore la mancanza il difetto o la divergenza di vita così quello di stampa può essere nuova ispirazione positiva nel design ad esempio per texture e motivi decorativi interessanti per ridiscutere l'estetica e la funzione dell'oggetto a partire da un errore una stampa fallita bloccata un materiale di scarto da una limitazione di mezzi e di capacità possiamo ricavare un pezzo con dignità tecnica e molto da dire in senso artistico a partire da una limitazione personale cercare una strada alternativa per andare progredire evolvere non rincorrere o riparare ripartire e reinventare dice il filosofo Riccardo D'Alferro nel suo Elogio dell'idiozia che lo slancio esplorativo che caratterizza la vita umana e la storia della nostra specie non sarebbe mai stato possibile senza un'abbondante dose di incoscienza e ignoranza incolpevole in movimento non esiste esplorazione intesa in ogni forma possibile senza idiozia queste considerazioni mi danno l'occasione per chiudere con l'aspetto più importante di questo racconto l'intento di veicolare il messaggio sull'inclusività trasversale e non solo femminista anche nel mondo della tecnologia in particolare nel mondo maker ispirato al manifesto per l'inclusività della stampa 3D del progetto Più Ability di Milano a cura della professoressa Marinella Levi citando nei punti a Più Ability noi facciamo così noi abbracciamo la diversità e la trasformiamo in energia per la nostra progettazione ogni giorno cambiamo la nostra prospettiva sul mondo studiamo problemi e troviamo soluzioni insieme a Più Ability noi pensiamo così noi siamo il ponte che accorcia la distanza tra persone e tecnologie crediamo nell'ascolto come strumento per la creazione di oggetti condivisi utili e progettati da tutti per tutti a Più Ability noi progettiamo così noi creiamo luoghi dove accogliere l'innovazione per generare incontri inaspettati da perfezione e imperfezione dove non essere diversi e stigmatizzati ma parte di un ingranaggio che funziona con e per gli altri la bellezza è tutto ciò che ci dà emozione e noi la troviamo nell'unicità nella diversità e nelle peculiarità di ogni persona a Più Ability noi sogniamo così noi sogniamo di abbattere le barriere e usare la tecnologia per creare una società più equa e inclusiva in cui tutti possano dare un contributo e migliorare le nostre vite creando un nuovo mondo di opportunità condivise a Più Ability noi lavoriamo così noi accogliamo ogni persona riconoscendo e valorizzando la bellezza delle cicatrici di ciascuno per dare senso di unità e forza al nostro lavorare insieme diamo forma a un'appassionata collaborazione di esperienze idee e pensieri trasformati dalla tecnologia in soluzioni pratiche per ogni giorno fare è di tutti allora adesso voi vi starete chiedendo un attimo va bene ma in un hacker camp no? tutta questa pippata ma che ci serve? ok? invece vi serve tantissimo per un semplice motivo perché Elisa Neri che cosa ha voluto fare? lei ha uno spirito io ho ovviamente uno spirito tecnico lei è un'artista contemporanea e perché un hacker si dovrebbe interessare di arte contemporanea? vabbè a parte per acchiappare magari qualche bel ragazzo oppure qualche bella ragazza no? ma l'arte contemporanea di per sé non fa altro che prendere degli elementi magari classici che noi di solito vediamo e cerca di destrutturarli per poi riconfitturli in maniera differente creare un qualcosa di nuovo che cosa fa in pratica? hackerà l'arte ok? Elisa Neri ha voluto hackerare dei sistemi artistici e l'hacker non fa altro che questo non fa altro che vedere qualcosa che è consolidato e cerca di smontarlo per poi riutilizzarlo in maniera differente o magari anche migliorarlo ma molto spesso magari ci troviamo con un qualcosa di completamente differente e innovativo grazie a un qualche cosa di vecchio quanti di noi abbiamo creato cose nuove magari utilizzando vecchie librerie che oh ma che ci faccio con questa qua poi abbiamo trovato la killer application e quindi abbiamo creato una nuova applicazione ok abbiamo trovato un fallimento abbiamo creato un exploit abbiamo trovato un exploit e così via ecco l'artista Elisa Neri fa questo crea un exploit purtroppo non vi posso far vedere qual è il programma che lei ha utilizzato per fare questi oggetti è un programma per fare vasi in pratica di solito c'è chi è bravo a disegnare tridimensionalmente con il computer e chi magari invece utilizza dei programmi parametrici metti una serie di numeri e automaticamente esce un vaso con magari un paio di corna e così via lei che cosa ha fatto ha preso questo programma per fare vasi ha creato un vaso bello alto alto con una base piccola la base piccola la base sta in basso e il vertice è molto piccolo e l'ha schiacciato creando un oggetto fai vedere un attimo Elisa adesso infatti io volevo farvi vedere la fotografia vi faccio vedere un attimo ecco qua questa è la cartella e poi hc non c'è nessuna cartella ma sul il tuo computer allora allora vediamo un po' perché poi sai qua ci sta data di condivisione immagini e video vediamo un po' questo qua perché l'ha cambiato in continuazione che è sta roba qua è questo che io vedo cose nuove cioè ah perché vabbè diciamo ha messo altre cose allora voi dovete sapere che lei ha pensato questa cosa poi ha detto vittorio poi tu parli e di qualcosa qualcosa posso far vedere ah ok grazie allora adesso per condividerla sullo schermo di là facciamo in questo modo allora sempre i binocoli che cosa che cosa avrà mai fatto sta ragazza ma io non lo so io già lo vedo di qua ma voi non lo vedete di là eh ok allora questi qua non sono altro che dei piccoli capezzoli se voi guardate la base piccola cioè la base grande e il vertice piccolo schiacciato a creare questo oggetto qua che è un piccolo capezzolo in più c'è questa colorazione rosa perché lei non so se voi sapete come funziona la stampa 3D è un filamento di plastica fuso trasparente in questo caso che passa dentro una stampante viene sciolto e strato su strato crea l'oggetto lei si è messa lì a colorare col pennarello rosa nel momento giusto il fatidico momento in cui salta fuori dalla parte diciamo l'aureola del capezzolo questo non è altro che hackerare sia la stampa 3D quindi non inserire un filamento colorato ma inserire un colore in un filamento che è comunque neutro e ovviamente hackerare quello che è tutto un sistema diciamo di prospettiva di utilizzo di un software che è quello del vaso per fare un qualcosa di completamente differente che è in questo caso i famosi capezzoli ecco qua si vedono un po' meglio si vedono infatti i vari strati ok e Elisa ha anche realizzato un video che aveva presentato per un concorso ma diciamo che comunque si è che non so direi anche me alla mia maniera ovviamente in questo video possiamo vedere la Delta Wasp 2D 3D che stampa il mio Pink Nip Design Concept il progetto che ho presentato al 3D Pink World Contest il nome che sta per Pink Pin Nipple è un gioco di parole a definire una stilizzazione simbolica di un vaso capezzolo o capezzolo vaso provocazione e delicatezza perfezione e imperfezione nutrimento e perdizione Pink Nip non è molto particolare come idea base ma come possibilità di sviluppo del processo di progettazione e realizzazione si tratta infatti di una sperimentazione in divenire di una nuova tecnica di colorazione del materiale plastico da estrudere il risultato base è un simbolico capezzolo traslucido fosforescente e lievemente sfumato di rose ogni pezzo è il risultato di un intervento di sfumatura a mano in interazione con la stampante che lo rende unico e irriproducibile nelle medesime caratteristiche in quanto frutto di performance concettuale le buone cose di pessimo gusto Elisa Neri vi ringrazia e torna a lavorare su nuovi sviluppi per il PINCNIP la tecnica di per sé non è un'idea mia è una cosa che nella stampa 3D già qualcuno aveva provato a fare ma proprio per gioco non per non è stata sviluppata mai io ho detto a me cosa incuriosisce mi sono messa sotto e intendo portarla avanti viene fatta anche meglio con il discorso è proprio questo che era nella fase comunque di apprendimento di quelli che sono i tool automatici di creazione di determinati oggetti parametrici ok che possono essere vasi 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 bucati c'è un algoritmo matematico il Boronoi che prende e crea dei famosi buchi diciamo equidistanti tra di loro forse l'avete visto adesso vanno di moda i famosi tutori in stampa 3D ecco quei buchi che si vedono in quei tutori sono fatti secondo un algoritmo di matematico che si sito ancora prima della stampa 3D si chiamava Boronoi ovviamente Elisa alle armi con le prime armi con la stampa 3D non avendo capacità di computer ma nemmeno io quello che ha voluto fare ha voluto provare questi tool automatici tra cui c'era questo qua dei famosi vasi per cui tiravo fuori i vasi vasetti di qualsiasi genere forma che ovviamente lei diceva va bene questi li fanno i cinesi per cui perché dovremmo spenderci tempo noi a fare dei vasi di questo genere quando dai cinesi magari 50 cm li possiamo comprare dobbiamo dargli quindi una narrazione dobbiamo trovare un modo per creare qualcosa di differente da sempre i famosi vasi degli ignomi mammocetti e via discorrendo e per cui lei così quasi per gioco ha cominciato a cambiare i parametri sì che altro volevo sperimentare questa cosa intanto l'ho sperimentata su dei file di cose normalissime solo per vedere come veniva cioè come perché poi c'è tutto dietro anche una cosa su quali colori sono più adatti non si può esagerare perché si rovina l'estrusore non è che si può buttare dentro non è pensato sul filamento allora poi dipende io vado sempre a occhio perché con i calcoli a seconda di che altezza voglio farlo venire posso metterlo prima lasciarlo un po' asciugare perché se no crea dei problemi poi lo inserisco faccio in modo faccio scendere un po' di roba e poi insomma devo un po' valutare sì 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 devi capire come interagisce il colore con il filamento qual è più adatto qual è più adatto quale sforza l'estrusore perché io sarei io penso sempre poi lontano gli estrusori non sono pensati perché c'entri dentro quella roba là quindi si rovinano o fanno cose con un tecnico potremmo anche pensare a fare questa cosa come farla diventare comunque una tecnica accettabile con delle sostanze accettabili e tutto il resto però per ora io credo che non ci abbiano pensato perché si utilizzano altre cose per fare multicolore per fare sfumature poi ci sono quelle le stampanti a pellet in cui viene messo il pigmento direttamente e quindi fanno delle cose bellissime ma non col filamento no col filamento che poi quello che ho voluto fare io per svariate ragioni è non posta lavorare assolutamente cioè come infatti ho curato il vetro doveva essere pulitissimo con la giusta dose di lacca non ho scartavetrato non ho primerato non ho fatto niente come sciva dalla macchina e quindi in quei 50 centimetri mentre la macchina fa gogita materiale plastico e lo stampa Elisa stava lì tranquilla cercando di calcolare il punto preciso in cui andare con il pennarello e anche nella scelta dei pennarelli ovviamente c'è stato tutto uno studio perché sembra ma una piccola variazione di colore o comunque un po' del materiale differente da quello che il materiale potrebbe danneggiare la stampante o comunque far risultare la stampa quello che vedete si è paradossale che insomma una strisciata di colore possa fare chissà quale variazione eppure comunque esiste c'è l'abbiamo provato abbiamo visto che in effetti ecco perché diciamo non esistono estrusori con quelli che spruzzano in chiotto ma è meglio si utilizza direttamente i filamenti colorati che poi vengono mescolati insieme giusto ho fatto varie ipotesi provare vari tipi di colori e anche di plastica sciolta colorata perché poi c'è un modo per sciogliere la plastica e poi spennellare direttamente sì sì è tutto purtroppo non ho avuto modo sì a volerci si mettere avere delle macchine a disposizione di estrusori sacrificabili ci sarebbe molto da fare sì e vuoi far vedere anche le altre cose che e qui ovviamente diciamo più che altro è un esperimento di scansione 3D e stampa in questo caso la scansione 3D solitamente è finalizzata a un oggetto finito un oggetto intero la scansione del busto come abbiamo fatto in altri hacker camp noi ci siamo messi lì girare intorno a una persona uno scanner tridimensionale una specie di sparacchi diiodi si passa intorno a una persona definisce una nuvola di punti tridimensionali che il computer elabora dopodiché avendo l'oggetto tridimensionale viene mandato in stampa e lì si ha voluto invece fare un qualcosa di differente prendere solamente determinati parti del corpo le mani il volto e così via in questo caso abbiamo questo abbastanza simpatica che è una coppia di mani messa a forma di cuore sull'addome premendo un pochino è facile insomma viene fuori diciamo la parte dell'addome che sembra un cuore ecco ovviamente questo è un esempio di applicazioni di stampa 3D magari nella moda nel design quindi creare un oggetto tipo una spilla che rappresenta le mani di una persona magari dello stesso acquirente e quindi avere un oggetto unico e personalizzato questo è lo scopo della stampa 3D creare oggetti che comunque siano unici irripetibili perché altrimenti sempre ritorniamo al discorso che faceva Elisa se dobbiamo fare tutte cose uguali allora tanto vale che andiamo dai cinesi e lo compriamo a minor prezzo e questo è il discorso giusto sono due mani differenti da due macchine differenti una sembra venuta peggio e una venuta meglio a me piace quella venuta peggio perché mi dà l'idea della seppia io appena siccome la stampante vecchia che l'ha fatto era un po' scassata ha stampato male quando l'ho vista ho detto è un effetto bellissimo bisogna provare bisogna provare a scassarla apposta e dobbiamo studiare su come scassarla apposta vabbè ma ho comunque una voce abbastanza che si riesce a sentire giusto no? ecco quindi ecco infatti quindi diciamo il succo del discorso quello che voi magari prima avete sentito e avete detto va bene ok bello Elisa Neri l'arte e via discorrendo e anche il documento artistico insomma ma che c'entra con noi Akra adesso penso l'abbiate capito avete capito pure che una donna è anche una bravissima Akra perché comunque sia già di per sé l'arte artistico ha migliori qualità rispetto a gli uomini che pensiamo magari con la stampa 3D a fare solamente oggetti meccanici oppure i pupazzetti di Gedi di Guerre Stellare capito? quello è il discorso e francamente lei mi ha aperto un sacco di orizzonti che prima per me erano preclusi e ovviamente questo se lo riportiamo poi nell'arte della programmazione dell'hacking puro hacking informatico così si possono avere grosse prospettive questo è più o meno il succo del discorso tu Elisa volevi far vedere qualche altra cosa così ecco questo è un omaggio ecco questo è un lavoro che ha fatto che ha fatto Ivette alla quale poi Elisa ha applicato ovviamente degli inserti delle perline stampate 3D insomma è stato un talk abbastanza strano anomalo soprattutto per la presenza di questi due relatori però insomma la prossima volta ci attrezzeremo meglio grazie sì dimmi gli artefatti sono della stampa quando finisce sì questa scalettatura e queste qui la forma di onda in questo caso qua diciamo la scalettatura si vede molto di più perché prende la stampante aveva le cinghie che si erano un po' ammollate per cui l'aveva detto ah perché non lo facciamo pure con la stampante da 2800 euro questa cosa per cui così insomma ci sono anche di più economiche però ecco ovviamente noi lavoriamo con stampanti semiprofessionali per cui questo è tutto ragazzi grazie tantissimo per la vostra pazienza grazie a tutti grazie a tutti